ciao ragazzi c'è amici di pro mirrorless ciao ragazzi allora prima di tutto volevamo roberto contraccambiare gli auguri di buon ferragosto perché molti di voi molti di voi ci hanno scritto ci hanno fatto gli auguri quindi hai chiaramente grazie facciamo anche a voi anche perché roberto a parte questa pausa di per agosto dall'autunno inverno ci aspetteranno un autunno caldo perché c'è una fotocchina grandi cannonate grandi cannonate o niconate caniconate effettivamente forse avete letto anche voi nikon ha già dichiarato che presenterà a fine agosto insomma dopo ferragosto la sua nikon full frame mirrorless e anche canon i primi di settembre quindi i due grandi big riniziano la lotta come sempre stato ti aspetti cose fantascientifiche aspetti io mi aspetto comunque che le due grandi aziende ancora leader del mercato almeno come storiano forse come vendite ormai no perché sony comunque ha dato una spallata incredibile appunto nel mercato si decidono a fare il grande passo si diceva fare il grande passo ma faranno secondo me un po fatica perché sony ormai per un paio di fattori è già una tecnologia acquisita sicuramente già è già la terza serie della 7 no presentata mentre il canone nikon è vero che avranno già preparato i loro progetti da tempo non si buttano fuori così a a sprombattute alla cieca però sicuramente hanno faranno fatica prima di tutto perché non ci sono ottiche ancora presentate almeno mi rappresenteranno mi pare un paio due o tre per azienda e sony è fornitrice dei sensori io sono convinto però roberto che loro hanno lavorato in questi anni bene a meno me lo auguro perché hanno insomma non posso soprattutto nikon non può sbagliare è in una situazione economica talmente critica che si è un fatto purtroppo risaputo che nikon naviga in cattive acque secondo me l'obiettivo principale roberto che hanno avuto sia canon e nikon è stato quello di tamponare l'emorragia incredibile che c'è stata da canon e nikon e ormai sony è diventata una piaga per queste due aziende e beh nel nostro piccolo attraverso voi insomma amici del blog ma anche tramite il negozio eccetera abbiamo visto decine e decine di persone con corredi anche importantissimi di canon e di nikon e migrare praticamente su sony anche perché sony è vero che canon e nikon permetteranno di però la compatibilità di ottiche canon e di nikon su corpi sony già è molto buona specialmente canon specialmente canon quindi insomma io mi auguro che canon e nikon e ne son convinto facciano delle cose interessanti nikon ha già lanciato questo video teaser insomma di per incuriosire per creare un po di basing un po di bassa parola si parla di una di una baionetta molto più ampia posizioni sono tante però forse la più fondata è quella che può supportare anche formati diversi perché ma io questa è un po la mia teoria parlavano anche di un'ampia baionetta per dar più luce al sensore però ma io questa cosa qui è vera ma se noi pensiamo alla leica m10 insomma la leica m che ha ottiche anche molto molto luminose f1 eccetera con una baionetta e un tiraggio molto più piccolo di queste qui quindi non so se questa la motivazione può essere io credo la motivazione sia che nikon abbia già come dire nel cassetto il medio formato e probabilmente hanno fatto un progetto unico anche perché ripeto devono ottimizzare i costi di produzione quindi nikon sappiamo che uscirà con un corpo da molti milioni di pixel la prima esce da diciamo la pro no esce la pro intorno ai 4000 euro si vocifera e poi uscirà una z300 non lo so il nome quale sarà baionetta baionetta zeta si chiama baionetta zeta si quindi un attacco completamente nuovo sicuramente con gli anelli le ottiche nikon saranno completamente ma tu cosa pensi che chi ha un corredo nikon importante ancora ce ne sono anche i nostri collaboratori si farà lo switch su un corpo mirrorless sapendo anzi non sapendo se le ottiche che ha in casa potranno andare avere prestazioni su che io sono convinto che se faranno un buon marketing e soprattutto la tecnologia effettivamente c'è nel senso che io posso utilizzare le ottiche quantomeno le g insomma le ottiche full frame su nikon sul corpo mi credo che molti nikonisti anche perché i nikonisti sono molto affezionati al marchio rimarranno o quantomeno ripasseranno di nuovo praticamente a nikon bisogna vedere io diciamo il punto di domanda più che nikon che più o meno si è capito insomma come come quali saranno le loro carte a me interessa canon perché canon prima di tutto è un competitor se rispetto a sony che ha come sony che ha una tecnologia altissima è molto più grande di nikon e quindi è quello che secondo me può competere infatti anche perché lui c'è già una tecnologia che il dual pixel no si che funziona già sulle rf si beh ma anche sulle mirrorless la m50 a nuova che tra l'altro costa anche poco con 800 euro a due pixel veramente impressionante a livello video è straordinario a livello fotografico forse devono ancora perfezionarlo io mi aspetto io mi aspetto secondo me sì secondo me sulle nuove sulle nuove canon e full frame mirrorless io mi aspetto di vedere una tecnologia dual pixel a f straordinaria secondo me le attacco sarà ancora perfettamente compatibile quindi non ci sarà bisogno di anelli questo è quello che penso io ah tu pensi allora che l'attacco rimanga il medesimo secondo me sì secondo me canon ha sviluppato proprio la tecnologia dual pixel f per poter fare questo e sinceramente potrebbe anche essere che chissà insomma questo permetterebbe di avere magari un corpo in macchina però certo l'attacco può essere lo stesso ma il tiraggio è diverso quindi comunque ci sarà un distanziatore beh bisogna vedere perché magari hanno spostato leggermente il sensore un pochino più indietro è da vedere cioè quello che si vocifera è che l'attacco sarà lo stesso eh non ci saranno come ha fatto sigma diciamo quel raccordo no sulle sd4 eh staremo a vedere magari il corpo è un po' più grande è un pochino più impegnativo io non lo so comunque di canon ho grande fiducia eh di nikon sono convinto che farà un buon prodotto devo dirti la verità io una baionetta così grande per me il problema polvere sarà un problema molto forte perché mh a differenza siamo onesti a parte olympus un pochino fuji panasonic ma degli aspirapolvere ma tutti gli altri onestamente la polvere arriva cioè non non a livello delle prime reflex dove insomma aprivi l'ottica e ti prendeva il panico però insomma sony provava un po' della polvere ce l'ha sì certo anche addirittura su vari post e ci hanno anche scritto su apparecchi nuovi addirittura sì 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 no infatti ehm questo è un po' inevitabile una baionetta così grande e tra l'altro nikon ha sempre avuto all'interno no quella specie di velcro non lo so sono curioso di vedere se hanno ci hanno pensato perché altrimenti diventa comunque devono fare un prodotto veramente valido sì perché se no è un caracchiere sì cioè nikon non può sbagliare canon ehm credo che cercherà di tamponare l'emorragia ehm saranno ancora produttori di reflex di alto livello ehm cioè quindi canon secondo me se la se la batterà eh sì anche il vantaggio appunto è di poter far combaciare due tecnologie diverse nello stesso corredo ecco questo infatti io vedo tante persone canon magari anche pro che avranno due corredi paralleli esatto infatti e infatti questo è il grosso plus cioè di di chi ha canon di anche di chi ha un corredo canon o nikon o così e possono affiancare le due tecnologie ehm io credo che anche fuji e olympus non dormiranno fuji si poggiavo cifra la t3 con un sensore tecnologia staked quindi 20 più fotogrammi al secondo quindi una bestia che ha un sensore tipo quello della 9 giusto? tipo quello della 9 ehm e avrà altre migliorie che promette la stabilizzazione eccetera eccetera olympus 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 speramente questa è questo potrebbe essere cioè proprio il terzo incomodo sì il terzo incomodo che ti arriva si parla di un nuovo formato full frame 4 terzi cioè un 24-30 come come diciamo più o meno dimensione del sensore in sostanza un sensore più grande con una macchina molto al di sopra come caratteristiche anche in ambito video rispetto all'M1 o MAR2 ecco se fosse così sarebbe interessante perché olympus ha una tecnologia spaziale cioè stabilizzazione, polizia del sensore, tecnologia software incredibile, autofocus iper performante corpi macchina che sa costruirli olympus senza dubbio ottiche straordinarie quindi se olympus dovesse veramente come dire affiancare al corredo micro 4 terzi che io sono convinto che continuerà ad esistere ha senso il 4 terzi che ha senso perché effettivamente se tu vuoi la compattezza, la trasportabilità al micro 4 terzi è imbattibile, non c'è storia e uno che ha un corredo olympus oppure che pensa ad olympus dice ok mi faccio un micro 4 terzi con un paio di ottiche di zoom e così per la trasportabilità e poi inoltre si parla anche, si dice che le ottiche fisse ad ampia luminosità le ZUICO PRO, le 1 e 2 le top hanno un cerchio di copertura più ampio del micro 4 terzi sarebbe addirittura sufficiente per coprire un ipotetico futuro full time 4 terzi ma chissà se già non ci abbiano appunto pensato effettivamente sono importantine come lenti ma proprio misurando anche guardandola dal lato baionetta si vede che proprio lì diciamo il riquadro di copertura è notevolmente più ampio rispetto per dire al 1240 PRO ma guarda se fosse così olympus 4 a 4 zitta zitta ha piazzato no? ma io me lo auguro perché sai che sono sempre stato affezionato al marchio olympus e perché ritengo che tra l'altro lo standard 4 terzi anche se esteticamente preferisco il 2 terzi ma tecnicamente il 4 terzi ha una resa ai bordi migliore perché ti toglie proprio quelle due fascette sì e perché chiaramente i raggi di luce arrivano più telecentrici no? rispetto quindi insomma ragazzi dal punto di vista di novità nel mercato ce ne saranno tante a sto punto Roberto la domanda nasce spontanea ma ancora senso poi andare a acquistare una reflex sapendo che tutti compresi i big che erano stati che sono stati fino ad oggi latenti hanno deciso di investire in mirrorless è come tutte le cose non è che puoi dare dei dettami che vadano bene un po' a tutti perché secondo dei soggetti per dire se mi lo chiedesse una persona giovane quindi già che ha già una mente abbastanza informatica che già è legata a quello che è il mondo web, ai blog eccetera io lo vedo indirizzato alla mirrorless sicuramente sì io più che d'età anche se è vero che lo dici che tendenzialmente il giovane è più come mentalità come mentalità chiunque fosse orientato alla tecnologia cioè gli piace il concetto della tecnologia e capisce che per sfruttare al 100% i nuovi mezzi fotografici penso a Sony, Olympus, a Fuji ancora è rimasta abbastanza tradizionale almeno come maniobrabilità e approccio devi utilizzare la tecnologia, devi sfruttare le funzioni devi conoscere bene le funzioni chi ha questa voglia, questa spinta nel mirrorless si diverte certo chi non ha questa spinta è chiaro che si può sentirsi un po' frustrato perché è abituato all'immediatezza se vogliamo di una reflex o di alcune macchine fotografiche per cui può sentirsi un pochino lontano quindi direi che il primo distinguo è questo queste due fasce d'utenza è la mentalità è la mentalità chi proviene dal mondo analogico diciamo non si vuole spendere a livello proprio di apprendimento a livello di informatica la reflex va bene e poi ci sono anche comunque gli approcci a livello di maniobrabilità come hai detto a proposito di questo ti faccio una domanda secondo te c'è qualche aspetto in cui ancora oggi la reflex la ritieni superiore o comunque sia che ti dia qualcosa in più? la prima cosa lo usiamo anche per lavoro è il mirino il mirino ottico e il mirino digitale sono due cose completamente diverse e hanno pro e contro bassa luminosità come tu hai provato anche con l'850 ultimamente e il mirino elettronico ti aiuta tantissimo perché amplifica la luce vedi benissimo con l'ottico hai detto bene te io ho provato ogni tanto mi piace fare un tuffo nel passato ho provato con l'850 a fare insomma un evento un matrimonio così e di giorno fantastico di sera quando c'era una parte luce insomma la luce era scarsa mamma mia aiuto veramente abituato al mirino elettronico di giorno viceversa certo il mirino ottico è più confortevole però ti dico una cosa Roberto che non è tanto non è solo la qualità del mirino elettronico il problema è che i costruttori non dedicano particolare attenzione nella progettazione dell'oculare perché l'oculare nel mirino elettronico non può essere come quello del reflex deve essere più pronunciato e deve isolare di più l'occhio dalla luce esterna si che poi è quando arriva la luce laterale laterale oppure è proprio perpendicolare insomma quando entra dentro è chiaro che il mirino elettronico c'è anche da dire che non sono tutti uguali si non sono tutti uguali ci sono di quelli tipo Olympus nel suo piccolo tra virgolette ha degli occhi di mirino molto naturali molto naturali con una capacità eccellente di compensare la luminosità in funzione del variare della luce esterna mentre tra la 7.3 per dire che noi utilizziamo è un po' più rudimentare sotto questo aspetto si almeno la 7.3 certo comunque quindi mirino ottico altri plastiche la manovrabilità e l'ergonomia perché le macchine mirrorless a parte Fuji sono macchine fatte di tastini le macchine reflex no le macchine reflex hanno ancora un'interfaccia che somiglia un po' e non è una logica memoria no e poi mettere anche l'affidabilità le macchine mirrorless sono sono fondamentalmente macchine sono pc sono software e software come si sa può avere dei buchi oltretutto la macchina mirrorless scalda di più non fosse altro che per il mirino sempre acceso un display sempre acceso scalda perché è più piccola è più piccola è più compatta diciamo deve avere dei processori più potenti per funzionare a un certo livello e quindi scalda e il calore con l'elettronica non è che va in un punto di controllo io parlo di piccole differenze di qualche bug c'è devo dire che i costruttori in maniera molto seria fanno degli aggiornamenti firme cosa che nella reflex non succedeva incostanti quindi risolvono i problemi anzi ti migliorano il mezzo lo rendono più longevo però è vero anche a me in effetti in diverse occasioni durante gli eventi qualche ogni tanto qualche blackout o cose strane possono capitare che si risolvono facilmente cioè non è che sono problemi dicendo oddio devo portare in assistenza cioè spegni la macchina e accendi di solito riparte però per dire sei tipo un reporter di guerra io non me lo chiederà mai ovviamente però lo vedo più con una reflex alcolica che con una mia no io non sono d'accordo perché per me il fatto compattezza e silenziosità insomma è un fattore importante cioè il mezzo perfetto Roberto non esiste questo tutti cerchiamo la perfezione ma ci dimentichiamo che sono macchine e anche coloro che progettano le macchine sono umani quindi sono chiaramente tutto perfettibile ma i plus delle mirrorless sono talmente tanti che comunque surclassano le reflex sono d'accordo con te che la reflex ad oggi è un pochino più stabile più stabile magari ha dei difetti proprio di progettazione però è più stabile come mezzo la mirrorless viene corretta strada facendo e quindi questo è l'aspetto positivo però è un pochino meno stabile in condizioni estreme perché? perché c'è più elettronica c'è mirino display processori insomma quindi componentistiche che al verare delle condizioni climatiche possono dipendere poi dal marchio perché onestamente con Sony qualche problemino ce l'abbiamo io devo dire con Olympus problemi faccio un esempio quindi dipende anche un po' dal marchio sicuramente Simone mi dice che come esempio con Panasonic problemi non ha mai avuti quindi non lo so potrebbe essere anche legato un pochino al marchio con Fuji e con Sony qualche cosino ogni tanto c'è stato grandi prodotti insomma siamo sempre dei grandi fan di Fuji e di Sony però insomma va detto quello che va detto insomma comunque a parte tornando il discorso alla domanda che mi hai fatto conviene o no acquistare una Reflex c'è anche la faccenda costi che comunque nel mondo Reflex diciamo dalla categoria media alla bassa è destinato comunque a morire vuoi sapere come la penso io secondo me ha senso comprare una Reflex solo a coloro che decidono di acquistarla pensando di tenerla per una vita io la compro voglio un mezzo semplice tradizionale se vogliamo e soprattutto me la tengo finché non cade a pezzi anche perché la svalutazione sarà enorme la svalutazione sarà drammatica cioè la verità è questa qui sarà drammatica perché ci saranno sensori nuovi più performanti perché le mirrorless prenderanno il largo è inevitabile perché le case lavoreranno sulle mirrorless lavoreranno sulle mirrorless e quindi ok se tu dici io voglio un mezzo semplice affidabile tradizionale mi compro una Reflex magari usata quindi la svalutazione grande già l'ha fatta a quel punto me la tengo quando proprio cade a pezzi a quel punto guardo il mercato anche se è un discorso per uno che ha un corredo mirrorless che vuole in certi casi avere la Reflex per dire non so quando c'è per dire molto luminosità quando gli serve un'ottica un po' diversa in questo senso Canon e Nikon faranno la differenza va bene Roberto ragazzi noi abbiamo fatto insomma di nuovo gli auguri ve li ripetiamo di buon ferragosto ci siamo fatti questa dichiarata che è un preludio a quello che succederà e voi mette vi teremo informati ne discuteremo vi faremo vedere le novità che ci saranno in autunno tra l'altro in autunno da quest'anno partiranno anche i corsi pro mirrorless se voi andate sul blog trovate diversi corsi per ora ma poi aumenteranno insomma nel tempo sempre di più noi vi ringraziamo iscrivetevi al canale mi raccomando mettete un like se vi piace se vi piacciono i video iscrivetevi anche alla pagina facebook e il gruppo facebook su di pro mirrorless insomma cerchiamo di tenere di tenerci in contatto e ci auguriamo di vedere alcuni di voi nei prossimi corsi così più che altro ci conosciamo Roberto salutiamo ciao ragazzi ci vediamo alla prossima